Allora, vedete tutti? Sì, sì. Bene. Settima lezione. Avere una migliore salute. A qualcuno interessa? A me? Sì, a tutti. Io la settimana scorsa ho avuto l'influenza, quindi mi interessa. Ok, perfetto. C'è qualcuno che ha delle terapie in corso, mediche? Anastasia? Io soffro di tiroide, quindi prendo l'Eutirox. Solo quella perché altri farmaci non li voglio prendere. Ok. Solo quella. Qualcuno prende medicine? Occhi? Moment. Io prendo l'auline prima di testa quando mi viene il mal di testa. L'auline prima di testa? Sì. Che bello l'auline. L'auline è fantastico. Fantastico. Un sollievo, meno male che esiste. Allora. Ma poi a me mi viene il mal di testa, sempre scappa per la domenica. Cioè non capisco, ci deve essere un perché, un senso. Ti viene? Il mal di testa, sempre scappa per la domenica. Ma guarda un po'. Quando per la mente dov'è stare bene, invece mi viene il mal di testa. E' proprio il corpo che è sfortunatamente il sábado e domenica. Comunque stasera scoprirò. Stasera scoprirete tutto. Stasera praticamente faremo fallire tutta l'industria delle case farmaceutiche. Ma magari. Beh, però comunque esistono dei rimedi naturali anche per il mal di testa. Cioè io ho fatto delle ricerche e la menta peperita, se te la metti un po' sulle tempie, ti fa passare il mal di testa. Ragazzi, ragazzi, acqua e sale. Io sono le termine. Ma acqua e sale dove? Bevuta? Bevuta? Cioè bere acqua e sale? Acqua e sale, sono gli elettroliti, il mal di testa. Introducete acqua, aumentate l'introito dell'acqua. Che non bevete per niente. Ah, esatto. Un segno di disidratazione, però l'olio e la menta peperita a me fa miracoli. Io non ci credevo, perché ho detto, ma se anche io mi impasticavo di farmaci. Era una farmacota dipendente. Menta peperita. Io faccio con la rena, la menta, la menta alle tempi. Io faccio quella lì, tipo, se ama olio di tigre, una cosa così, che è comunque sempre forte. Però quando mi passa, vado giù, diavoli. E giù. E te lo so. E che devo fare? Forse magari inconsciamente hai troppi pensieri in testa e non ti rendi conto. Sicuramente, sicuramente. Anche quella è un segno del tuo corpo? Anche a me è successo, eh? Perché fa mi parte dalle spalle. È come se mi sentissi il peso del mondo sulle spalle. È come se mi sentissi che ho proprio un mastigna sulle spalle, praticamente. E da lì mi parte tutto questo mal di testa. Grazie. Bene, ti sei già dato la risposta, allora. Grazie. Bene. Allora, partiamo. Oh, l'età del ferro, cosa bisogna avere? Sono quello. Una salute di ferro. Una salute di ferro. Allora, una salute di ferro. Allora, normalmente, si ha la credenza che avere una buona salute significa non avere malattie fisiche o mentali. Giusto? Allora, io adesso vi chiedo, faccio la domanda. Ditemi la prima cosa che vi viene in mente. Come va la salute? Così, così. Alla grande. La parola salute, la parola salute. La prima cosa con l'associato è che cos'è? Tutto. Benessere interiore? Benessere in generale? Io... Come fisiche? Eh? Come fisiche, pure io. La salute la siamo alla perfezione. Quindi, se non ci sentiamo, diciamo, perfetti, diciamo, magari così e così, penso. Ah, ok. Io, quando mi dicono la parola salute, la associo subito alle medicine, all'ospedale, a... Per me la parola salute vuol dire non stare male. È la prima cosa che ho pensato. Eh, beh, appunto. Perché poi avete dato le risposte. Non l'ho detto. Avete dato le risposte da essere illuminati. Ma la prima cosa è quella. La parola salute è associata alle problematiche. O no? Il tema dell'età del ferro non è l'età dell'oro. Ovvio. Nell'età del ferro, certo. Allora, sostanzialmente, l'obiettivo dell'età del ferro è eliminare la malattia fisica e mentale. Per quello che vi ho detto. L'obiettivo è eliminare la malattia, giusto? Perché si prende un farmaco? Per togliere il dolore. Quindi per eliminare la malattia. Certo. Ok. Siamo sicuri che funzioni realmente così? Cioè che la salute vuol dire eliminare il dolore? È come dire. Vogliamo la pace, bisogna eliminare la guerra. La guerra. Quando parlano i politici, no? Cos'è che parlano, ragazzi? Bisogna eliminare la criminalità. Bisogna eliminare la povertà. Dovete mai sentiti questi discorsi? Sì. La salute nell'età del ferro. In realtà la salute fisica e mentale è la conseguenza della salute spirituale. Non essendo contemplata la parte spirituale nell'età del ferro, giusto? Nell'età del ferro noi non sappiamo chi siamo. Si cerca di porre rimedio alle conseguenze della sua mancata considerazione. Quindi Sonia ha mal di testa e prende un medicinale. Maolino. Quindi cosa fa? Va a porre un rimedio. Sì. Ragazzi, che sia un medicinale o una cosa naturale, non cambia. È il concetto mentale che conta. Voglio porre un rimedio. Che non è sbagliato, ma non deve diventare uno stile di vita. Cioè non è che io tutta la vita devo prendermi la menta piperita per farmi passare il mal di testa. Può andare bene una volta, perché giustamente sto male, quindi lo faccio. Ma poi devo capire la causa. La salute è un'esperienza. Allora, quello che voi state comprendendo in questa accademia, sapete cos'è? È che tutto è uno, giusto? Cominciamo con i pollici. Tutto è uno. Guardate in questa accademia cos'è che stiamo comprendendo. Tutto è uno. Tutto è comunicazione. Io sono grato per tutto. Capite la differenza tra l'età del ferro e l'età dell'oro? Nell'età dell'oro tutto è tutto. Quindi la salute è dappertutto. Ogni cosa è salute. Ogni cosa è comunicazione. Ieri l'abbiamo detto, no? Ogni cosa è comunicazione. Ma anche ogni cosa è salute. Nell'età del ferro sia la malattia, la vecchiaia che la morte sono inevitabili. Cioè, chi vive nell'età del ferro matematicamente si ammala e matematicamente muore. Non c'è via di scampo, eh? E diventa la normalità. È normale ammalarsi. È normale morire. Voler porre rimedio a qualcosa porta inevitabilmente nella nostra vita quel qualcosa. Perché? Perché lo sto considerando. Perché io ci credo. E se io credo a qualcosa, lo porto nella mia vita. Se credo alla malattia, la malattia la porto nella mia vita. Se credo alla morte, la morte la porto nella mia vita. Se credo alla ricchezza, la ricchezza la porto nella mia vita. Ammettere l'esistenza della malattia e la morte crea la malattia e la morte, anziché considerare che uno stile di vita sano la farebbe scomparire. Quindi praticamente noi stasera stiamo andando controcorrente, contro il 99,99, virgola 99,99 per cento dell'umanità, delle persone che voi conoscete. Quanti anni avete? 30, 40, 50, 60, 70? Nella vostra vita avete mai conosciuto uno che ha detto non esiste la malattia, non esiste la morte, siamo immortali? Isaiate. A parte me. No, nessuno. Nessuno? No. Quindi quello che stiamo dicendo questa sera è un'assoluta novità per il mondo. Però c'era un signore con la barba, penso che aveva la barba, non lo so, all'epoca si usava nei cappelli lunghi la barba, che diceva che chi crede alle mie parole non sperimenterà più la morte e avrà vita eterna. Chissà perché lo diceva. La causa della salute. E se la malattia e la morte fossero solo la conseguenza di una causa ben precisa e non di eventi casuali? Allora, a me dicono che io non sono razionale. No? Cioè che io praticamente non uso una logica e quindi sono pazzo. E allora voi dovete chiedere a una persona normale, razionale, gli chiedi perché ti ammali? Beh, mi ammalo perché ho preso un virus. E allora voi cominciate a fare il gioco del perché. Perché hai preso il virus? Eh beh, perché comunque ho le difese immunitarie basse. E perché le difese immunitarie basse? Eh, perché comunque è normale ogni tanto. E perché è normale ogni tanto che le difese immunitarie basse? Eh, perché la vita ci ha creati così. E perché la vita ci ha creati così? Ma fai come i bambini, no? Eh, l'ultima risposta è non lo so. Ok. Tu hai una malattia grave, sì. Perché? Beh, è genetica. Qua ti fotto, eh? Qua ti fotto. È genetica. È genetica. Siamo di famiglie. È di famiglia. È ereditaria. Ah, ho capito. Quindi la tua famiglia ha questa eredità. Perché la tua famiglia, la famiglia Rossi ha questa eredità? La famiglia Verdi, no? È un caso. Eh, non lo so. Beh, perché la famiglia, la mia famiglia magari... Boh. La tua famiglia, è una?!